Ancora piantaggioni ammalate in tutto il mondo. La marijuana non esiste più. La marijuana non esiste più. Questa è marijuana così grossa. Ci puoi aiutare a piazzarla? Le piante sono come l'uomo, senza una femmina vicina, sono fanina. L'ultima femmina di marijuana sulla terra. La tengono nel Museo Botanico del Vaticano. Poi ce la vedo un piano? Pensavamo di andare al Vaticano, pensare e rubare la piantaggina. Faccio la faccia del ragazzo svantaggiato e... Ma è piena di merda, eh? E' del babbo! Ma che fa tu? Ma presente, no? Come il film? L'esorcista. Sei che lasciassi babbata. Decisa. Noi ci dobbiamo riprendere quelle piante. Azzeri! Io vado a mettere le dite negli occhi. A mangiare. A ballare. A vomitare! A la padezione! A dire! A eaten! A